Ok, buongiorno, stamattina praticamente ho avuto l'occasione di invitare per un saluto e un incontro al rieletto sindaco di Bacoli, con grande piacere da parte nostra, e quindi avere l'occasione di incontrare i nostri consiglieri con i suoi consiglieri qui al comune di Monti di Procida per iniziare, spero, quanto prima un'azione profigua tra Bacoli e Monti di Procida. Giusto, Giosi? Giusto, Giosi. Da parte nostra c'è il piacere di essere qui, anche perché la sera in cui si è stato programmato sindaco, noi eravamo a festeggiare a Bacoli ed eravamo al seggio elettorale nostro e quindi non riuscimmo a salire a Monti di Procida. Quindi volevamo disobbligarci rispetto a questa assenza, perché credo che Bacoli e Monti di Procida debbano lavorare insieme in sinergia. Io faccio prima una considerazione di carattere più personale, come ho avuto modo di dirti anche nel tuo comitato elettorale quando hai iniziato la campagna. In piazza io con piacere ho avuto modo di sentire ciò che dicevi, di conoscere la tua squadra, di sapere quello che state facendo, anche perché siamo legati da una comune amicizia con una persona che non c'è più, che è l'onorevole Giuseppe Scotto di Luzio, a cui va il nostro applauso perché è un figlio di Bacoli ma è stato un protagonista della vita scolastica, politica di Monti di Procida e quindi se lui fosse stato in vita avrebbe sicuramente sostenuto la tua candidatura. I cittadini di Monti di Procida hanno scelto in modo chiaro, così come a Bacoli hanno scelto in modo chiaro chi fosse l'amministrazione che debba governare la città. Quindi io sono certo che tu saprai fare un percorso come Procida, ma anche noi, e siamo certi di farla anche a Bacoli, di dopo le elezioni, che è il momento più complesso, di provare ancora di più a unire la città e di farlo con i fatti, perché poi le parole stanno a zero, con le cose sono i fatti. Il sindaco viene votato se fa le cose, se le fa viene votato, se non le va, non viene votato. E quindi la presenza di nostra oggi qui, in maniera abbastanza massiccia, tenuto conto di proprio per avviso che ci siamo dati a entrambi i gruppi, è dovuta al fatto di dire un buon inizio per dare seguito ai tuoi intendimenti che mi sono piaciuti anche in campagna elettorale, di fare le convenzioni su tante cose che riguardano Bacoli e Monti di Procida e sicuramente ci lavoreremo. Abbiamo esperienze comuni, tu sei stato già vice sindaco, io ho fatto già il sindaco, quindi ci auguriamo che questo viatico Bacoli-Monte possa continuare sempre con maggiore sinergia. Lo stesso appello che hai lanciato tu, lo lancio i consiglieri comunali, molti già sono di quartiere, fondamentalmente si muovono un po' già tra i due comuni, però lavoriamo sinergicamente, perché se lavoriamo in sinergia ne godono entrambe le nostre comunità e mi auguro che non accada mai, come è potuto accadere in passato, chi se la dà a fare un dei progetti, chi se la dà a fare Bacoli, qua sta Salvatore e sta a Giosi, quindi stiamo uniti e quindi qualsiasi cosa, il problema di uno e il problema di un'altra, la risorsa di uno e la risorsa di un'altra. Grazie a tutti. Grazie Giosi, penso che diciamo così che questo incontro organizzato a volo, informale, tra i due gruppi che andranno a governare i due comuni sia un buon viatico per le due amministrazioni che ci accingono a governare Bacoli e Monte di Procida. Io spero che questo incontro, diciamo così si è parlato molto di linguaggio ultimamente, è il linguaggio che passa attraverso i social è legato solo alle parole, ma io penso che l'incontro, il vedersi e questa manifestazione è un linguaggio che ci permette di dare una comunicazione pure alla cittadinanza montese e bacolese che c'è l'intenzione di lavorare insieme e noi vogliamo parlare con un linguaggio pure delle immagini, degli incontri e delle cose che facciamo seppur diciamo così informali. Spero che vanno bene. Abbiamo portato degli umilissimi doni. Questa innanzitutto è un'immagine della nostra città in cui si vede la promontorola di Miseno realizzata da una cooperativa sociale e quindi mi auguro che tu possa tenerla qui e ogni tanto ricordarti sempre di più di Bacoli. Assolutamente sì. E poi due libri che abbiamo realizzato in questi anni. Uno è sulla tradizione bandistica Bacoli e quindi tutta la storia delle bande musicali che so che è una molto attenzionata come tradizione anche a Monte di Procida e quindi è questo. E poi noi nel corso dei cinque anni, è un percorso che anche voi avete fatto, con te può essere sollecitato, abbiamo dato tanti nomi a tanti luoghi della città ricordando uomini come Peppino Impastato, però anche tanti figli di Bacoli che purtroppo non ci sono più ma che hanno fatto la storia della nostra città e ne abbiamo fatto un libro e te lo consegno perché tanti di questi figli hanno fatto tanto anche per Monte di Procida. Grazie, grazie Giosi. Appena di questi incontri penso che ce ne saranno altri, tu dovrai ancora fare la proclamazione, ci vedremo sicuramente alla proclamazione e spero di essere altrettanto costitissima come lo è stato tutto con me. Ok? Grazie. 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 Grazie.